Non sono Marron, abbiamo visto che c'è un ostacolo in Lord of the Rings adatto per Matteo Morandi, quante possibilità hai di convincere a partecipare? Ma guarda, dopo che ho visto questa prova sicuramente lo chiamerò, lo chiamerò e quindi credo che per quella parte di percorso non abbia problemi, magari per le altre come anche per me perché il nostro ricordo è uno sforzo anaerobico, quindi sotto il minuto e facciamo un po' di fatica quando c'è da correre per tanto tempo, però farò presente a Matteo, anzi appello per Matteo Morandi dovrai essere presente insieme a me e ci divertiremo.